Ma perché non vuoi partire? Dio. Oddio. È difficile trovare gente di cui fidarsi, vero gente? Tu. Tu mio tío. Aiuto, aiuto, aiuto. 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 Sovra. Lo stavo d'arriva. È solo suosso da mia barca. Aiuto. Aiuto! Mi dice di rivederti, Gio. Lascia che ti dio la mano. Io non la voglio, la tua mano. No, non fai. Sì, indietro, hai capito, indietro. Lo stesso male per te. Sta fermo. Metti giù, lascia la mano, mettono giù. E allontanoti, metto la mano. Jack, posso capire che tu sia scomporto, ma cerca di rilassarti adesso. Io non voglio rilassarti. Lascia almeno che ti spiego. No, non voglio sapere niente. E se credi di poter mangiare la mia faccia o di entrare nel mio corpo, ti conviene capire l'idea, potresti mentirtene di brutto. Mangiare la faccia, Jack? Non ci ho mai provato. Perché è una raffinatezza? No, dimentica quello che dico. Sì, guardate.